Vai Miche, tu sei l'attrice, io sono un'avvocata che parlo in tribunale. Va bene, comunque, abbiamo avuto veramente tantissime donne che ci hanno scritto, che ci hanno contattato, ne abbiamo viste tantissime. Riceviamo tantissime mail. Esatto, sul sito sta andando benissimo, stiamo seguendo, Giulia sta seguendo in prima persona, tanti casi e ci sono due nostre amiche, Mirella e Daniela, che hanno voluto testimoniare, parlare, perché credono profondamente che la loro testimonianza possa aiutare le altre donne a uscire dal silenzio e non subire più la violenza. Mirella e Daniela sono due donne diversissime, ma hanno in comune l'amore, secondo noi, per la vita, perché sono riuscite comunque a uscire da storie dolorosissime. Quindi vi chiediamo di ascoltare con attenzione le parole di Mirella e Daniela perché sono delle parole preziose, preziose per tutti. Storie emozionanti.